Prof. Becchetti, allora questi fondi di coesione, quanto sono importanti per il nostro Paese in un momento anche di grande difficoltà per quanto riguarda le finanze, la cassa del nostro Stato? Sono fondamentali per riequilibrare un po' gli svantaggi tra un'area e l'altra? Assolutamente sì, mi piace dire che la coperta è corta quando parliamo della legge finanziaria, non ci sono i soldi, ma l'armadio è pieno di trapunte, è pieno di coverte, i fondi europei sono tantissimi, il problema è saperli usare, la difficoltà del fondo europeo è che richiede progettazione, programmazione, capacità di rendicontazione e di valutazione di impatto e quindi queste competenze spesso non sono così facili da trovare, soprattutto mettono in difficoltà i piccoli comuni che dovrebbero un po' consorziarsi per poter accedere a questi fondi, quindi oggi se vogliamo la risorsa scarsa non sono i soldi, la risorsa scarsa sono la capacità di fare progetti. Il limite qual è? Questo o anche altro sul territorio? Ma è questo e poi anche capire quali sono le direzioni in cui bisogna andare, perché è chiaro che l'Europa ha una serie di direttrici che sono giuste, sono quelle della transizione ecologica, della transizione digitale, della riduzione degli squilibri tra le aree diverse, quindi oggi anche non è solo nord-sud ma anche problemare interne, grandi centri, delle infrastrutture, perché ovviamente poi di quello che si deve occupare soprattutto i governi, diciamo creare le reti e quindi secondo me ci sono campi molto interessanti, purtroppo spesso, tante volte ci sono storie di fondi che vengono restituiti, che non vengono utilizzati bene. Ci sono tanti capitoli all'interno dei fondi sociali, dalle infrastrutture ai servizi alla cultura, bisognerebbe privilegiare qualche settore nel nostro paese o bisogna andare un po' in tutti i campi? Bisogna andare su tutto, però diciamo due cose fondamentali sono le reti, cioè l'investimento nelle reti lo può fare solo lo Stato, non hanno interesse a farlo i privati singoli, oggi per reti intendiamo la rete elettrica, la rete idrica, la rete digitale, sono le nervature fondamentali su cui funziona tutta la nostra vita, quindi credo che quello sia la cosa più importante. Poi è l'obiettivo di rendere tutto socialmente sostenibile, quindi ogni cosa si può bloccare se non c'è la sostenibilità sociale, quindi combattere le disuguaglianze oggi è assolutamente la cosa più importante. Nelle aree più deboli e fragili è anche una grande opportunità in termini occupazionali a suo giudizio? Beh assolutamente sì, perché oggi dobbiamo anche cercare di bloccare e di invertire questa tendenza alle migrazioni che si assomma alla tendenza della crisi demografica e quindi il rischio dello spopolamento di tantissime aree interne e le migrazioni dal sud verso il nord e quindi tutto questo si può fare se diamo nuove opportunità al mezzogiorno e alle aree interne e le opportunità ci sono perché l'Italia è straricca di genio sloci, di ricchezza, di biodiversità e quindi dobbiamo assolutamente investire in tutto questo. Tornando all'inizio, lei ha detto che bisogna in qualche modo riqualificare anche la burocrazia a livello territoriale per insomma avere tutti questi fondi e insomma svilupparli nel migliore dei modi. L'idea è anche di creare un'agenzia a livello nazionale che possa sovraintendere qualcosa che può aiutare in qualche modo anche a monitorare un po' il tutto? L'agenzia nazionale serve per i grandi progetti ma non arriva poi capillarmente fino ai piccoli comuni, c'è bisogno più che altro di creare dei consorsi a livello locale, a livello provinciale per aiutare appunto le aree interne a fare degli investimenti che siano adatti alle loro prospettive di sviluppo. In qualche modo è necessario anche riqualificare il ceto burocratico degli enti locali, comuni e regioni in primis? Assolutamente sì, finora in Italia è valsa la regola della ottemperanza formale, cioè del rispettare la forma ma non la sostanza. Oggi tutto è sulla sostanza quindi bisogna avere dei progetti che abbiano un impatto, bisogna saper valutare l'impatto e saper rendicontare quello che è stato fatto. Negli scorsi anni altri paesi europei, anche ad esempio la Polonia, hanno sfruttato pienamente anche per le infrastrutture questi fondi. Noi siamo stati un po' più riduttanti e ora è una chance importante nei prossimi sette anni secondo lei, anzi una delle ultime opportunità? Assolutamente sì, quindi io credo che c'è un compito anche della comunicazione, dobbiamo concentrare un po' più l'attenzione su questo anche se è difficile. Parliamo troppo della virgola della legge finanziaria che guarda solo alle risorse interne, l'attenzione a scoprire tanti punti deboli in queste politiche di utilizzo dei fondi europei secondo me andrebbe sviluppata e è una sfida che la comunicazione e i media devono raccogliere. Un capitolo importante è quello delle infrastrutture, quanto è rilevante per rilanciare un po' tutto lo sviluppo economico di un territorio? Pensiamo che tutto il sud non ha l'alta velocità e che è uno dei temi del PNRR, pensiamo al problema nuovo delle infrastrutture idriche perché noi non abbiamo sempre, non ci siamo mai fatti problemi con l'acqua, adesso l'acqua è un problema e abbiamo delle reti dove il 50% dell'acqua si perde, dove abbiamo una capacità di raccogliere acqua piovana che è molto più bassa dei paesi vicini a noi come la Spagna e pensiamo alla rete digitale che è essenziale se vogliamo dare una chance alle aree interne non può essere che attraverso il cablaggio, attraverso la rete perché oggi veramente c'è questa possibilità anche di lavoro a distanza per cui i creativi possono scegliere di mettere assieme la bellezza, il lavoro e l'efficienza ridando forza alle aree interne. Grazie a tutti!